Posso venire a passare un video di lavoro? Io per lei un tetto lo posso trovare Grazie mille, commentatore E' gentilissimo E' un tetto, un tetto che lo troviamo E apparecchiamo il felice E quando rimane col felice? Ciao ragazzi Apparecchiate il felice E' ritornato Tornato Babbo Natale, vieni, vieni Tornato Babbo Natale Ho portato le sorprese Hola Posso a tavola? Buonasera Vedrai quanti moschiti si trovi tu qua che ignori Vedrai come sarà Come sta? Babbo Natale Come sta? Come sta? Sembra proprio E' domani, vieni, 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 vieni Ammazzate il vitello grasso Solo il caffè hai perso Solo il caffè Ciao male Ciao male Domani, dopo domani Come sta? Poi ho portato il riso di oggi La scatoletta E quattro cocchi Ehhh Ehhh Puliti Belli Già puliti pure Ah certo Se lo fai il servizio lo faccio bene, no? Ehhh Ehhh